Il giornalista di inchiesta Il giornalismo di inchiesta visto che ho detto che tu sei un giornalista di inchiesta Ma io ti posso dire l'inchiesta che facciamo noi Nel senso che noi abbiamo una trasmissione in piedi da 12 anni Inventata chiaramente da Milena Io con lei e tanti altri siamo ormai 5-6 storici E facciamo giornalismo Nel senso che poi di inchiesta o non inchiesta Io non lo so se noi facciamo inchiesta Noi facciamo dei servizi specifici su argomenti specifici Cioè siamo dei singoli che lavorano su delle tematiche Che decidiamo insieme Oppure decidiamo con Milena E poi andiamo fino in fondo alle responsabilità È molto semplice Cioè cerchiamo di prendere delle denunce E poi andare a trovare i responsabili Se questa è inchiesta noi facciamo inchiesta Poi non so Dalle altre parti Cioè chiaramente il giornalismo di inchiesta Anch'io come utente l'ho visto I vecchi dossier che si facevano sul TG2 Samarcanda Non so Vedo che ce n'è sempre meno A noi chiaramente farebbe piacere se ce ne fosse sempre di più Perché così non abbiamo gli occhi puntati Addosso E possiamo continuare a farlo anche noi Per cui insomma Però insomma noi Fino adesso non è che abbiamo avuto mai problemi A parte le querele che ci arrivano Da chi Non è d'accordo Su quello che noi diciamo Quindi non pensi che negli ultimi 10-15 anni Ci sia stata una sorta di Coartazione del giornalismo D'inchiesta Comunque del giornalismo Che racconta le cose per quelle che sono Che tenta almeno di farlo Guarda Ti ripeto Noi e 12 anni che lavoriamo Pressioni non ne abbiamo mai avute Abbiamo sempre dei direttori Che hanno rispettato il nostro lavoro Poi quanti tempi sono cambiati un po' per tutti Ci sono state queste purazioni Di cui tutti sappiamo Singolarmente Probabilmente Quando abbiamo scoperto qualcosa Ci siamo un po' posto dei problemi Ma questo qua andrà mai in onda Anch'io Ci sta Milena Milena Che è il mio punto di riferimento E di conseguenza Lei come punto di riferimento È il direttore di rete Non ci ha mai detto Questo sì Quello no Oddio Adesso questo andrà in onda Noi siamo andati sempre in onda Abbiamo andato in onda Tutto quello che Che ci è capitato di fare E di scoprire E Pressioni non ne abbiamo avuto Poi Ci sono state delle purazioni Le abbiamo viste tutti Insomma Nel senso che Ci sono stati dei programmi cancellati E probabilmente Questo ha fatto in modo Che tutti gli altri giornalisti Non so Avranno avuto un po' più di accortenza Si saranno autocensurati Non lo so Nel fare questo tipo di lavoro Però Però Cioè Poi questo Cioè Bisogna sempre Dividere i telegiornali Dai programmi di informazione E di approfondimento Perché i telegiornali Hanno una linea editoriale E i direttori Sono decisi direttamente Lo sapete voi Insomma Leggiamo dai giornali Insomma Io so quello che leggiamo dai giornali Per cui lì probabilmente C'è una linea editoriale precisa Per cui se prima c'era Mimum E il Tg1 era in un certo modo Adesso c'è il Riotta Forse in un altro modo Non lo so Però questo lo vediamo In modo lampante Tutti I programmi di approfondimento Sono un'altra cosa C'hanno un capo struttura C'hanno un direttore di rete Certo anche lì Per esempio Noi abbiamo il nostro direttore di rete Che si dice in quota Margherita C'è centro-sinistra Però Io ultimamente Non so Per fare un esempio pratico Ho avuto dei problemi Con Bassolino Abbiamo avuto un fuorionda Dove lui si arrabbiava Lui l'ha visto Non è che ha detto Questo non va in onda O quando Ho beccato un fuorionda Di uno Del onorevole Duilio Che si lamentava Che dentro la Margherita Parlavano con la televisione Sempre gli stessi Che non davano spiazza agli altri Anche quello era un fuorionda Che avevo preso Su un'altra inchiesta Ma è stata tagliata Cioè Io Poi dipende dalla serietà Del direttore di rete Il nostro direttore di rete Rispetta il lavoro di giornalista Rispetta la trasmissione Per cui Noi non abbiamo mai avuto problemi Bene Adesso passo la parola a Ivana Da un primo sguardo Sembra che l'informazione vera Chiara e diretta Senza adesione al compromesso Di qualsiasi natura Forse sia stata Nelle mani dei comici Che attraverso la loro satira Hanno potuto Almeno hanno provato A dire ciò che il giornalismo Ufficiale Non diceva Non ti sembra anche questo Un segnale di pericolo Per la libertà di stampa E inoltre potrebbe anche Rappresentare un segnale di pericolo Per chi usufruisce Della stampa Cioè In quanto Si suppone Che la stampa ufficiale Abbia Delle regole Si è sottoposta Delle regole Precise Di controllo della notizia Mentre i comici Penso di no Grazie I comici Recitano un copione Insomma Non è che vanno a braccio Nel senso che loro Scrivono Oppure ci sono degli autori Che scrivono E poi recitano E Non so se si sostituiscono Al giornalismo E né Se il giornalismo Deleghi Ai comici L'informazione O l'intiesta Insomma Mi sembra un po' Un po' forzata Questa Questa valutazione Penso che ci sono Degli ottimi comici Che fanno Un buon lavoro Tipo Peppe Grillo Ma è un caso Diciamo Unico Cioè Tra l'altro Non va neanche in televisione Per cui È ancora più importante Perché la gente Se lo va a cercare Se lo va a trovare Sul sito Va a vedere gli spettacoli Girono le cassette Per cui insomma C'è proprio una 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 ricetta Tra l'altro Lui Non va in tv Perché Insomma Lo sapete Poi dovrebbe Lui parla Contro l'acqua minerale Anche a noi C'è capitato Di parlare Contro le acque minerali Però Insomma È chiaro Che se tutta la televisione Parla contro Le acque minerali E poi dopo Nei break C'è la pubblicità Dell'acqua minerale Poi diventa Una contraddizione Non lo so Se I comici Sostituiscano L'informazione Non lo so Mi sembra forzato Come 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 valutazione Ti ripeto Però E Non vedo neanche Che ci sia un pericolo Per gli utenti Cioè Che cosa intendevi dire Nonno Perché L'informazione Che ci danno I giornalisti Dovrebbe in teoria Essere controllata Quindi Non vengono fuori Delle cose Che non sono state Controllate Come degli scoop È successo anche questo Però Dovrebbe in teoria Essere controllato I comici Non mi sembra Non so Non so Cosa Cioè Non è un I comici Fanno il loro lavoro I giornalisti Dovrebbero fare il loro Lo fanno Non lo fanno Insomma Noi siamo utenti Ognuno Valuta In base Insomma Non so A quello che vede E a quello Che vorrebbe Dal giornalismo Il problema È che forse Cioè Non lo so Noi vogliamo Qualcosa in più Dal giornalismo Che Che non viene Insomma Sarà quello Però Che i comici Fanno questo Penso che sia un fatto Positivo Indubbiamente A proposito Del lavoro Di giornalista In America Si dice Che il giornalismo È il cane Da guardia Della democrazia Nei confronti Dei potenti In Italia Sembra più Il cane Da compagnia Delle due Dei potenti Addirittura Ultimamente Sembra che Ci siano Autorevoli Gli esponenti Del mondo Dell'informazione Coinvolti In azioni Pesanti Di spionaggio In caso Della gente Betulla E quant'altro In questo contesto Come possiamo Fidarci In Italia Dell'informazione Hai fatto domanda E risposta Cioè Torniamo sempre Allo stesso discorso Che cosa parliamo Dei giornali Che sono in mano Agli editori Che non sono editori puri E che Praticamente Insomma Ci hanno un controllo Perché investono Nei giornali Per avere un controllo Dell'informazione Oppure per rendere L'informazione libera Parliamo della televisione Che c'ha Dove c'è un editore Che è capo Dell'opposizione Oggi E presidente Del consiglio Ieri E una Rai Completamente Lottizzata Con un consiglio D'amministrazione Gestito dai partiti Cioè Sono cose Che ormai Sappiamo tutti Cioè Noi Valutiamo Quello che leggiamo E quello che vediamo In tv Insomma Tutti i giorni Non abbiamo bisogno Di È chiaro che Insomma È preoccupante La cosa Però Io ti dico Cioè Dal nostro Cioè Io qua Se parlo da utente È un conto E sono d'accordo con te Ma se parlo da operatore Dell'informazione Per quanto piccolo Nel senso Ne facciamo una trasmissione Con dieci puntati all'anno Io farò Tre Quattro Inchieste all'anno No Per cui Anche se lavoro sempre A ruota continua Però io il mio lavoro Lo faccio fino in fondo Nessuno mi dice Quello che devo fare E quello che non devo fare Cioè Nessuno dice Ah Quest'intervista Adesso non la mandi in onda Magari l'intervistato Spesso Tenta Però Cioè Pressioni dirette Del tipo Il nostro capo struttura Il nostro Direttore Dice Guarda Ma ha telefonato Questo Non devi mandare in onda Quest'intervista Noi non l'abbiamo mai avuta Per cui Noi siamo I meno indicati A A A A giudicare Il fatto che ci sia Censura O manipolazione In senso Largo Come dici tu Perché noi Siamo quelli Probabilmente Forse più liberi Insomma Per cui Come faccio A dirti No C'è censura Dovresti sentire Magari qualcuno Che lavori In un giornale specifico O In qualche Telegiornale E Magari Non so Se poi Ti può raccontare qualcosa Noi Noi facciamo Un prodotto Che probabilmente Insomma Se io sono qua A parlare con voi Voi giudicate positivo Insomma E senza Censure Per cui Noi Ti ribadiamo Io ti ribadisco Che Censure Non ne abbiamo Poi per quanto riguarda Tutto il resto Io sono un utente Come te Cioè Perché non è che Abbiamo rapporti Con I telegiornali O abbiamo rapporti Con I giornali Ognuno fa il suo lavoro E Anch'io la mattina Mi sveglio Ascolto la segna stampa Guardo i telegiornali Vedo i programmi Di approfondimento I talk show Queste cose qua E' chiaro che insomma Ho un mio giudizio personale Che però insomma Non è legato A quello che faccio io Come mai I servizi Che Mandati in onda Su report Che rappresentano Le gravissime Denunce Di mancanze Nel sociale Spesso Vengono un po' A cadere Nel senso che Non vengono ripresi Da altri Servizi Informatici O dalla stampa Come magari Faccio un esempio Alcuni servizi Che ogni tanto Si vede Magari fare Su strisce la notizia Sembra un po' Cadere nel vuoto Guarda Ti faccio l'esempio Della mia ultima inchiesta Che ho fatto Si chiamava Cara politica Dove c'era Appunto Bassolino Che si arrabbiava Il giorno dopo L'ha mandato Strisciata la notizia Ha mandato Quel pezzo lì Sui giornali Nazionali Se ne è parlato Sui giornali locali Ci sono state Due settimane Di polemiche Per quanto riguarda Il ruolo di Bassolino E tutta la problematica Dei rifiuti A Napoli Delle consulenze E queste cose qua Spesso Siccome ci occupiamo Di cose anche Che sono In determinate zone Spesso sono i giornali locali Che riprendono la polemica Spesso ci sono Nei giornali Ma non su tutti i giornali Hai capito? Non è che non se ne parla Perché poi Se la trasmissione è conosciuta Vuol dire È chiaro che Secondo me La cosa più furba Che può fare Che è coinvolto Su un fatto Che noi mettiamo In evidenza È quello Di non Di non Di non Querelarci Perché la querela È una notizia Di non dire Ha detto il falso Perché poi Perché poi La notizia viene data Due volte È normale Che ci sono molti furbi Capito? Per cui Quindi ci sono più furbi Nei servizi Che andate a toccare voi Rispetto ad altri servizi Probabilmente Sì Poi tieni presente Che nel campo dell'informazione Non è che Insomma tutti sono solidari Con le altre trasmissioni Ognuno fa la sua trasmissione Ognuno tende a dire La mia trasmissione È la più obiettiva È la più completa Degli altri Perché chi è che dovrebbe parlare Di report? Ti ringrazio Ciao Ciao Io voglio fare una domanda Rispetto al diritto di informazione Diritto? Diritto di informazione Negli ultimi anni Si sono alternati I due governi Sono state varate leggi Che hanno coartato Piuttosto che liberalizzare Questo diritto? Io non Se ci sono state Non me ne sono accorto Sentivo che c'era Qualcosa che Per quanto riguarda La diffamazione Che c'era Multe o carcere Così Però Per il momento Non A livello di leggi Insomma Non penso Ci sia stato qualcosa Che abbia limitato Il diritto di informazione Cosa ne pensi Della manipolazione Mediatica? È una paranoia Dei non addetti ai lavori O Corrisponde al vero? Dunque La televisione È manipolazione Nel senso che Tutto quello che vedi In televisione È A parte le dirette Dove C'è il talk show Dove tutti parlano Per cui non ci sono filmati Da vedere Il resto è tutto Montato Anche io Faccio 30 ore Ogni inchiesta che faccio Faccio un minimo 30 ore di girato E devo sintetizzare In un'ora e 5 Un'ora e 10 Un'ora Di Filmato Vengo da te Ti intervisto Per 25 minuti 40 minuti Un'ora Spesso dura Un'intervista Poi di quell'intervista Prendo Quello che secondo me È Essenziale Per quello che Ho in mente Io di fare E tu poi Ti vedi in tv Dici ma cosa hai fatto Mi hai manipolato Mi hai montato Insomma Anche le nostre inchieste Sono fatte così Noi parliamo E intervistiamo 50, 60, 70, 80 persone Per ogni inchiesta Fai conto Mezz'ora Di media E insomma Arriviamo anche a 40 ore A 30 ore di girato E poi manipoli Manipoli Chiaramente Insomma Sta alla tua correttezza Al tuo modo Anche di rispettare La persona Che hai intervistato Di non modificare Il contenuto Di non Fargli dire una cosa Per un'altra E insomma Per cui Devi essere corretto Da questo punto di vista Cioè Uno che dice nero Non gli puoi far dire bianco E viceversa Però Io manipolo Cioè E per cui Non è un'invenzione Il fatto che si Che si manipola Poi Bisogna vedere A che scopo Cioè Dico Chi Io Io me li monta da solo I miei servizi E cerco Di seguire Una linea Di coerenza E di correttezza Poi gli altri Non lo so come fanno Però E' chiaro Che insomma C'è un montatore C'è un regista C'è un giornalista Insomma Ognuno Ci mette del suo Forse Forse Il discorso Della manipolazione Che è ovvio Che ci sia comunque Manipolazione E' relativo Al discorso Dell'osservanza Dell'etica Perché Verissimilmente Cioè noi L'impressione Che abbiamo È che L'etica Sia poco Osservata E che E che Comunque Il modo Di proporre Determinata Inferno Tu dici Io Si Manipolo Perché Devo montare Quindi Devo tagliare Devo mettere Insieme Dei pezzi Però Comunque Cerco Di mantenere Quello Quello Che era Il messaggio Se non ho capito male Forse Quello Che noi Abbiamo colto Come utenti È proprio Che ci sembra Che a volte Venga stravolto Il messaggio In barba All'etica Forse Questa La Manipolazione Che Si Intende Ma io Sono cose Che vedo Anche io Da Da Utente Io Posso Parlare Per quello Che faccio Io Io Non posso Parlare Per quello Che fanno Gli altri Posso Dare Un Giudizio Da Utente Che Compra I giornali Che Guarda La Televisione Insomma Però Se tu Vuoi Sapere In Generale Insomma Ti posso Parlare Avendo Un Rapporto Con L'informazione Sicuramente Più Adeguato Di quello Che possiamo Avere Noi Essendo Tu Un Tecnico Capito L'informazione La fanno Gli uomini Che sono messi Là Da altri Uomini E che Purtroppo Spesso Da noi Obbediscono A regole Politiche Dopodiché È Normale Che Insomma C'è Manipolazione Ti faccio Vedere Una cosa Piuttosto Che Un'altra Ti Monto Una Campagna Per esempio È stato Molto Evidente L'ultima Campagna Elettorale Negli Ultimi Tre Mesi Tutta La Stampa Parlava Contro Il Futuro Governo C'era Secondo me Quella È una Manipolazione Grossa Perché Di solito Prima Delle Elezioni Si parla Di quello Che ha Fatto Il Governo Precedente Allora Lì Ci sono Dei veri Maghi Insomma È questo Che noi Intendiamo E di questo Siamo Anche Preoccupati Perché Comunque Vediamo Che un Certo Tipo Di Mala Osservanza Dell'etica Porta Poi All'insorgenza Di una Di patologie O di disagi Se non vogliamo Proprio chiamare Le patologie Se vogliamo Parla di patologie Anch'io La mattina Quando Leggo Il giornale Così Sento Il fegato Che Si gonfia Cosa Ne pensi Del mondo Della solidarietà E della cooperazione Internazionale Il meraviglio Che esiste ancora Nel mondo Nel mondo Di oggi Apprezzo Tantissimo Chi riesce A dare Il suo tempo A Tu parli Del Del volontariato Certo Perché Insomma La solidarietà E quella Fatta Non so Magari Se io do Qualcosa Di genere È un fatto Che non mi richiede Per chi ha i soldi Magari darli Insomma È una cosa Sicuramente Insomma Nobile Però Non è che richiede Un grosso sforzo Lo sforzo grosso È chi dedica È chi dà Il suo tempo Per Per qualcosa In più crede E per gli altri E sinceramente Io Anche nelle piccole Le cose In qualsiasi cosa Vedo volontariato Lo apprezzo Tantissimo Perché Oggi come oggi Appunto Guardando la televisione Agendo i giornali Vedendo tutto quello Che succede Di cui si parla Di Di Questo Modo Ormai Di Di Giudicare gli altri Che È sempre Un po' È sempre Più Più Senza Senza sentimenti Proprio Cioè Molto Molto crudo Di giudicare L'altro Si respinge Proprio Tendiamo proprio A respingere Chi Oggi Da Agli altri Secondo me È Doppiamente Da premiare Insomma Cosa ne pensi Dell'associazionismo Medico Lo conosci Guarda Non lo Non lo Conosco Mi hai parlato Prima un po' Così E appena Mi hai parlato Ho detto Perché non Facciamo una Buona notizia No Noi facciamo Una rubrica Alla fine Della trasmissione Che si chiama Buona notizia E io Non sapevo Neanche Insomma Che c'erano Dei medici Che Facessero Fate volontariato Cercare Tantissimo Insomma E rinunciate A tanto Insomma Anche perché Il medico Oggi Può Può Fare altro Può legarsi Alle case Farmaceutiche Può fare Può stare Pubblica Nel privato Può fare Tanti soldi Per cui Niente Questa cosa Che mi dicevi L'ho subito Giudicata Come buona notizia Ho detto Datemi più elementi E vediamo Se riusciamo A fare Una buona notizia Sul lavoro Che fate È così difficile Da accreditare L'associazionismo Medico Forse perché Comunque È un esperimento Qualcosa di Estremamente innovativo Però Noi pensiamo Che L'associazionismo Medico Viste anche Le condizioni Della sanità pubblica A tutt'oggi Insomma Non c'è bisogno Di Abbia bisogno Di supporti E sicuramente Il volontariato Ma non lo dico Io Insomma Eminenti sociologi Comunque Soprattutto negli Stati Uniti Dove comunque La sanità Non è pubblica Pensano appunto Che il volontariato Possa essere Quella parte Quel qualcosa Che può aiutare La sanità pubblica Mentre noi Ci rendiamo conto Che il pubblico Ci vive In maniera Pregiudizievole Come dei medici Che lavorano In ambito associativo Devono fare Per definizione Promozione sociale Non possono fare Medicina Medicina ufficiale Devono fare O promozione sociale O medicina alternativa Con tutto il rispetto È per queste cose Perché non ho nulla Da dire a riguardo Ma non possono fare Della clinica Come la si fa Nelle strutture pubbliche Eccetera Il privato Ci vive Come pericolosissimi Concorrenti Ma se c'è Questo Questo pregiudizio È proprio perché Siete pochi Probabilmente Siete gli unici Per cui Insomma Non rientrate Non riescono A collocarvi Mentalmente Proprio Da nessuna parte E dopo di che Insomma È chiaro Che c'è Che c'è Pregiudizio Non lo so Io Conoscendo questa cosa Ve l'ho detto Bisognerebbe Insomma Che quello che fate Venisse fuori Attraverso Insomma Vedete Per esempio Questo sarebbe Un buon servizio Di informazione Andarle a cercare Poi anche queste cose E farle E farle vedere in giro Allora si può Insomma Magari cambiamo anche Un po' Di mentalità Su che cosa deve essere La medicina La salute Insomma Gli affari che girano Intorno A tutto A tutto Questo mondo Però Insomma Conoscete meglio di me Probabilmente Questa cosa qua Appena Appena me l'hai detto Ho detto facciamo una buona notizia Perché Effettivamente L'ho ritenuta tale Sono Malik Prima di tutto Voglio ringraziare Tutti Che sono presenti Oggi E ringraziarci Personalmente Perché Quello che ho capito Più o meno Ha scelto uno Lavoro Che non è Facile Che Se tutti di noi Avevamo voglia Di darci Quello che abbiamo Oggi il mondo Sarebbe Stato bene Ringraziarvi bene Tutti Che sono anche Dietro d'Italia Siamo un periodico Adesso facciamo 11 puntate Di cui 3 internazionali E 8 Più 8 Italiane Diciamo Poi dopo Smettiamo E ricominciamo A Ottobre Novembre Cioè per cui Abbiamo poco spazio Probabilmente Se sopravviviamo E anche per questo Perché non siamo Tutte le settimane In onda E per cui Appena cominciano a sorgere Un po' di polemiche Noi spariamo dalla circolazione E poi riprendiamo Dopo Tanti mesi Perché altrimenti Probabilmente Ci sarebbero stati Forze Il fatto di cui Parlavamo prima Parlavamo di censura Oppure di Di controllo Probabilmente Perché noi Insomma Qualcuno dice Che siamo funzionali Insomma C'è il report Per cui Salviamoci la coscienza Esiste l'inchiesta Esiste il giornalismo Esiste Così Insomma Può essere Anche così Però Io Questo grande fratello Che decide Che il report Deve esistere Gli altri no Perché poi Insomma Non ce lo vedo L'organizzazione Della RAI È fatta Per reti Insomma Ognuno ragione Con la sua testa Insomma Per cui Non è Che c'è Questa 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 strategia No Questo Forse così Uno Dall'esterno Magari Insomma Si fa un po' Più Taggi Di quelli Che esistono Veramente Siamo noi Che siamo diventati Un po' Paranoici Perché Noi sentiamo Che in qualche maniera Ci arrivano Le informazioni In maniera Deviata E quindi Siamo alla ricerca Siamo affamati Di quella Che è l'informazione Vera Capito Quindi È chiaro Che una trasmissione Come report Che in qualche maniera Rimane E comunque Ci dice delle cose Ci stimola Anche a fare delle ricerche Insomma A parlare anche tra di noi Noi in ambito associativo Vi utilizziamo moltissimo Perché comunque Ci date degli stimoli Per poi andare A ricercare altre cose E insomma Diciamo Allora serve Probabilmente Per tenere buoni Tenere buona la platea Non c'è un manovratore Che decide Tutto È un caso Anch'io Se la leggo dall'esterno La vedo così Però È un caso Adesso c'è Santoro Su Re 2 Re 2 Diretta dal Leghista Marano No? Cioè Come fa Santoro A stare lì Oppure c'è la Come si chiama La Anna La Rosa Su Re 3 Da sempre E su Re 3 Da sempre Anna La Rosa Quando c'era Berlusconi Tutti dicevano Che era Di destra Come fa A stare Su Re 3 Insomma Ci sono delle cose Diciamo Vere Ma 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 c'è anche Tanta Tanta Fantasia E' bene E' bene Parlarne Perché così Magari Cade anche Un pochettino La nostra Paura Sempre in base A quello Che conosco Io Non è che Poi ti dico Anch'io chiaramente Penso E guardo E ho dei giudizi Personali Che però Non sono quelli Del giornalista Che va Con queste Telecamerine Io vado da solo Con queste Telecamerine Piccole In giro Mi prendo Il mio argomento Vado fino in fondo A quell'argomento Finché non ho Chiuso il cerchio Non ho trovato Le responsabilità Non chiudo Poi mi chiudo In casa Un mese e mezzo Me lo monto E questo è quello Che faccio io Per cui Non è che vivo La redazione Dentro la RAI Cioè Per cui Ho contatti Con le altre Trasmissioni Noi abbiamo Una redazione Dentro la RAI Dove lavorano 4-5 persone Per noi Che ci fanno I fax Ci fanno Delle ricerche Così Poi ognuno Lavora A casa sua Per cui Insomma Il mondo Della RAI E il mondo Di come Vengono gestite Le altre cose Non ce lo viviamo Proprio Tu hai detto Io faccio La mia inchiesta Monto il mio pezzo Va in onda Però Penso che Siccome Traspare Insomma Che voi amiate Il vostro lavoro Anche dai servizi Che fate Penso che Un po' Diciamo Il come Va a finire Anche perché Avete una rubrica Sul come Va a finire L'abbiate a cuore Ecco Allora la domanda Stavolta è Da un altro punto di vista Cioè Avete notato Che da parte Di alcuni politici O in particolare Non so Fate un servizio Di denuncia Su un comportamento Della maggioranza Ecco Avete notato Magari Se l'opposizione Lo prende a cuore O se alcuni politici Fanno interrogazioni Portano avanti Questo battaglio Come no Come no Come no 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 C'è sempre qualcuno Che fa delle interrogazioni Per fortuna Dopo Ma a parte Non hanno mai risposto A queste interrogazioni E poi succedono delle cose Io proprio ieri Siccome devo fare Il come è andato a finire Sul finanziamento Ai quotidiani Ho fatto un'inchiesta L'anno scorso Proprio ieri Sono andato a prendermi Un po' di informazioni E pare che dopo Quest'inchiesta Qualcosa Si è mosso Chiaramente Non si è mosso Nella direzione Che speravamo Ma si è mosso Nella direzione Diamo meno soldi A tutti Mentre invece Probabilmente Si doveva Cioè Quello che veniva fuori Da quel servizio Era Ci sono Dei giornali Che ne hanno diritto E altri Che hanno sfruttato Questa cosa Che per esempio Le cooperative I soldi Vanno dati Alle cooperative vere Dove ci sono I giornalisti Dentro Che sono Dipendenti E soci Cioè Il manifesto Per fare un esempio C'ha più della metà Dei dipendenti Che sono soci Della cooperativa E hanno uno stipendio Dall'ultimo giornalista Entrato Al direttore Uguale Insomma C'è il libero Che è anche Una cooperativa Però Nella cooperativa Non ci sono i giornalisti Che sono dei dipendenti E basta Sono pure dipendenti Eppure prende 6 milioni di Euro All'anno Libero Per cui dico Le cose poi succedono Perché si è alzato Il polverone Perché poi magari Qualcuno ha fatto L'interrogazione Adesso poi è cambiato Il governo Per cui il nuovo governo Sembra più disponibile A sentire Ad ascoltare Però poi lo sapete I tempi sono sempre lunghi Per far cambiare le cose Purtroppo Non è che Il giorno dopo Succede qualcosa Poi cambia il governo Oppure cambia il ministro E poi si riparte da capo E insomma Dall'esempio che hai fatto Sembra però Proprio una reazione Tipo Oddio C'è stata la trasmissione Mettiamoci una pezza Piuttosto che cambiamo qualcosa Ah È così Purtroppo Purtroppo è così Si nota che È normale anche Si vede che Voi giornalisti Siete Informatori Quindi educatori Da come Vi dobbiamo Comprendere come educatori Perché chi si propone Come si dice Pubblicamente Deve essere un educatore E vedo che Da quando sono in Italia Ogni giorno O ogni settimana Si vede Nelle tv Che ci sono alcune Arroganze Da parte Sito alcuni nomi Di Calderoni O di come si chiama Altolo Borghesio Che insultano La gente immigrata Sempre Ogni giorno E visto che Noi paghiamo Anche la canale Rai Almeno Potevano 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 privarci Queste insulte E Non ho mai visto Uno Fare una Rivolta Dire che Bisogna Non fare vedere Quella cosa Perché Ancora più Un vicepresidente Della camera O del senato Non so A insultare pubblicamente Credo che Non lo so Voi Come Giornalisti Ripresentate Anche L'Italia Al di fuori Del paese Quindi Non so Che cose Da Come Si pensa A livello Giornalistico Alcune cose Grazie Io la penso Come te Ma perché Non si dice Quindi Una trasmissione Almeno Si può fare Come non si dice Allora Tu stai parlando Delle dichiarazioni Che tutti i giorni Vengono fatte Nei giornali Oggi La politica Si fa così Ci sono due schieramenti Si svegliano la mattina E decidono Di 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 Fare delle dichiarazioni Ecco Questo è un altro Un altro Aspetto Del Del nostro giornalismo No I cosiddetti Porta microfoni Reggi microfoni Cioè Si va lì E si prende la dichiarazione Del politico E poi tutti i giorni Siamo costretti a sentire In tutte le edizioni Dei telegiornali La dichiarazione Su tutto quello Che è successo Succede un fatto Qui Qui a Borgo Panigale Dichiarà Dichiarà Tutta l'opposizione Dichiarà Tutto il governo Magari insomma C'è anche Chi è più strategico Lì secondo me C'è una strategia Io da utente Adesso parlo Secondo me Lì c'è una strategia L'opposizione di oggi È molto brava Molto brava A fare la dichiarazione Quotidiana Bella coordinata Bella Che riesce Avere impatto Sul pubblico E alimentare Probabilmente Quello che dice lui Sicuramente Cose che fanno Tanta tristezza Insomma Io ho iniziato Questo lavoro Che faccio Documentando La prima ondata Di immigrazione Che c'è stata Nell'89 Ho fatto Ho documentato Le condizioni Di quegli immigrati A Milano A Bologna Nelle Nelle prime occupazioni Che ci sono state In cui Tipo Stalingrado E Altre Insomma Dove Io con La mia telecamerina Documentavo E denunciavo No Le condizioni In cui venivano Costretti a vivere Queste persone E diciamo Cioè Da Da quel momento Non ho più smesso Poi di Di fare Quel lavoro Sempre con lo stesso Spirito Per cui Insomma Stai parlando Con una persona Che Insomma È pienamente D'accordo con te Purtroppo I politici Che ci ritroviamo Sono quelli Cioè Se si fa La fortuna politica Sulle paure Delle Delle Persone Hai vista Erba Cos'è successo La strage Lì Quella è una cosa Allucinante Ancora La gente Leggeva Non so se è vero Perché poi Si rammarica Che non è stato Il tunisino A fare la strage Ma sono stati Due italiani Ancora Danno la colpa Perché lui era lì Perché Non doveva Ancora Siamo nel Nel 2007 C'è chi C'è chi la pensa così Io Ho quasi 50 anni Nell'85 Io vivevo a Milano Mi venne a trovare Un mio amico Da Londra Aveva Una spilla Stop Al razzismo No? E disse Stop al razzismo Ma dove era Cioè Noi in Italia Non sapevamo neanche cos'era Perché probabilmente Non avevamo ancora avuto Era una cosa così superata Che io Mi meravigliavo Di questa spilletta Che portava Questi amici Sopra il razzismo Ma perché C'è il razzismo Ancora nel mondo? Pensavo che era Un fatto culturale Completamente Passato E poi dopo 3-4 anni Ci abbiamo avuto A che fare Anche noi In Italia Probabilmente Insomma Se c'è chi Soffia Su dei sentimenti Che Che culturalmente Sono molto Dovuti anche All'ignoranza Perché poi Purtroppo Più tra la povera gente Ci sono Chi non ha potuto studiare Chi non conosce bene Le cose Insomma Sorgono Questi sentimenti Razziali Perché poi Così bisogna Chiamarli E c'è chi Fa la fortuna politica Su questi sentimenti E li Li alimenta E sono d'accordo Con te Che la televisione Non dovrebbe Mandarle queste Dichiarazioni Che dovrebbe Che i partiti Si dovrebbero Metter dentro A livello parlamentare A livello di rappresentanze Gli immigrati Che dovrebbero Parlare sempre Come parlano C'è Anche Queste persone Evidentemente Della Lega Faciti riferimento A Calderone Insomma Sono proprio D'accordo Con te E ti ho detto Il mio fegato Si gonfia Ogni giorno Chiudiamolo Lo liberiamo Lo ringraziamo Ti ringraziamo Tantissimo Grazie a voi Speriamo Una buona notizia Grazie a tutti Grazie Abox 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 Grazie.